Ben ritrovati con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di domenica 10 febbraio. Sulle zone montane più interne cielo variabile, dalla costa alle prealpi da cielo nuvoloso a coperto con possibili deboli piogge, specie ad est e al pomeriggio. In serata probabile peggioramento su tutta la regione con neve oltre gli 800 metri di quota circa e piogge moderate su pianura e costa, specie sulle zone orientali. Le temperature. Sulla costa 4-7 gradi di minima, 8-11 di massima. In pianura 2-5 gradi di minima, 7-10 di massima. A 1000 metri 2 gradi e a 2000 metri meno 2 gradi. Una rivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani. Grazie.